Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Una condotta integra, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Bisogna avere un senso vivo di forte rispetto per il lavoro, per la sua bella attenzione che noi rivolgiamo adesso, perché il lavoro è vita e la vita è fatta di un intenso lavoro continuo. Bisogna mostrare quindi vitalità in ogni gesto ed esaltarla perché poi la significante maestria della bellezza del lavoro ci insegnerà tanto l'umiltà, la povertà, la bellezza dei valori e un senso vivo di precisione per l'accurata lavorazione in corso. È bello vedere gente che ha una condotta integra perché la bellezza della persona integra e seria è che sa dare un esempio agli altri, sa essere responsabile, forte e intenso nelle sue passioni. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Una condotta integra. Bisogna avere rispetto e un senso vero di attenzione verso ogni buon lavoro che porti degna convinzione. Bisogna mostrare vita e in ogni gesto esaltarla per la sua magnificenza, per significante maestria. Una condotta integra e ricca di degni contenuti offre significativa essenza e tanti ricchi propositi. Una condotta integra trascina le persone a dare con vigore l'anima per far nascere il senso del dovere. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.